E' brutta Davide, questa buchetta guarda in uscita arriva lungo, si piega, si flette, guarda la forza che ti rimbalza via, questo è bruttissimo, è questo qua, guardalo Allora guardate, lui prende una ginocchiata in faccia e il casco gli salta via, questo casco però non era evidentemente allacciato benissimo, la chiusura non è infezionale In questo modo Giorgio Rocca ci ha lasciato praticamente, tanto speriamo che non si sia fatto